Beate, Alice, lo sai che non possiamo farti uscire? Sei sottoposta a misure giudiziarie restrittive. Ho detto di non toccare, ho capito che cerca di fermi la corte, ma non mi tocci. Bisogna che tu impari a relazionarti con gli altri ospiti. Chi è? Non è nuova, non è nuova, non è nuova. Tentativo di succedere in detenzione? Te un po' di cazzi tu hai mai. Mi scusi a lei, la dottoressa? Beate, Alice, poi... Sto socializzando qui. No, si sta impicciando, avanti, per cortesia. Per esempio come c'è la capa questa a Morelli? A Beatrice ha sottoposto Donatella a una specie di love bombing. E praticamente la hai spugnata. C'è un'autocusica! Venite! Lo aspettiamo stasera per piacere, è una bravata. No, la macchina no! La macchina! La Tchaikovsky, eh? Viva! Non usano! E qui si deve abberti subito le forze dell'ordine. Siete matte? Secondo alcune perizie sembrerebbe di sì. E basta di stare sempre male, basta. Voglio stare bene, vogliamo stare bene. E poi anche la televisione... Sembrano sarebbe chiara bene. No. E qui si deve abonare, non usano per il prituoso. Andare beccia bene, non usano per il tuo più grande, e poi non usano per il suo pericolo. E poi...